La ZES Calabria è finalmente operativa con l'insediamento di ieri del comitato di indirizzo previsto dal piano di sviluppo strategico della zona economica speciale Calabria, predisposto dall'Aggiunta regionale e approvato senza alcuna modifica dal Consiglio dei Ministri nello scorso maggio. Si apre così finalmente la fase attuativa del piano, che saluto con particolare gioia, ha commentato il Presidente Oliverio, poiché da oggi diventano concrete le prospettive di sviluppo in esso contenute. La ZES farà crescere l'economia globale della Regione e i suoi livelli occupazionali attraverso un incremento degli investimenti anche esteri ed un aumento delle esportazioni, grazie alla semplificazione amministrativa, alla disponibilità di infrastrutture messe nelle aree industriali, portuali e aeroportuali, agli incentivi fiscali previsti dal decreto e agli ulteriori incentivi regionali per investimenti delle imprese. La nostra azione, partita da due anni con la Regione Calabria a fare da battistrada, non è ancora finita però, avverte il Presidente, vanno infatti affrontati ancora gravi ritardi nella definizione degli interventi per le aree logistiche integrate, previste dal PON Reti e Infrastrutture del MIT. Somme, che pur disponibili nel programma, non producono effetti sul territorio, la cui utilizzazione potrebbe invece rendere attuativo il quadro degli interventi previsti dall'accordo. La Regione Calabria ha già istituito una struttura di coordinamento della programmazione nazionale, che tra l'altro promuove i programmi e le azioni per l'attuazione della ZES con al suo interno uno specifico ufficio dedicato esclusivamente alle attività di supporto alla ZES. Infine, per fornire ulteriore supporto al comitato di indirizzo, da subito, come già previsto dal progetto strategico, saranno istituiti, con decreto del Presidente, la cabina di regia per lo sviluppo strategico della ZES e il tavolo di consultazione permanente.